ah mimo what did you bring us? cosa hai portato? allora una crema di cicerchia con rape e orecchiette spadellate con tempura di cipolla di acqua viva e pomodoro confit ok so I tried to close it because we have a local typical local product so we have orecchiette and chimeli lava is a famous dish in pura very very famous but Mimino make in also tempura tempura on top yes yeah and fungi si garden jelly and the pomodoro e pomodoro confit confit pomodoro confit dry dry